Salve, sono Sasha Carnevali, sono una blogger e content creator con un passato di giornalista. Sono qui a questo evento per portare la mia esperienza e testimonianza nel campo della comunicazione efficace per quello che riguarda la sostenibilità. Nel mio lavoro ho scoperto che per poter cambiare le abitudini delle persone è molto più vantaggioso avere un approccio morbido in cui l'argomento è al centro dell'attenzione e non la persona che lo spiega, con parole gentili, con rispetto per chi ancora non è a conoscenza di certi argomenti, con rispetto per gli errori che sono inevitabili perché sono passata anch'io da tutte queste fasi, prima ad esempio di diventare vegana e questo produce un effetto di apprendimento profondo e duraturo. Il feedback che ho da chi mi segue è sempre lo stesso e mi incoraggia moltissimo e per questo lo voglio condividere. È proprio quello di non sentirsi giudicati quando magari si scopre di non essere a conoscenza del ciclo della plastica oppure di quanto sia enorme lo spreco alimentare nelle nostre case. Tutte le varie pratiche che possiamo applicare a livello domestico per migliorare la nostra impronta. Al contrario, un approccio che hanno molti influencer, che è quello di mettersi al centro dell'attenzione con un atteggiamento istrionico, dileggiando la concorrenza, dileggiando chi ancora non sa certe cose, vedo che produce un effetto di reazione immediata, ma non di cambiamento profondo. Quindi se vogliamo effettivamente cambiare le cose, il mio consiglio è di avere un approccio amichevole senza mettersi su un pulpito, restare alla pari delle persone che seguono i nostri profili o leggono i nostri blog o guardano i nostri video e in questo modo vedremo che creeremo un seguito nel senso proprio dei discepoli che però apprendono in maniera conclusiva gli argomenti che gli presentiamo.